oggi per il trucco occhi vorrei utilizzare se ce la facciamo questa palettina è sempre di revolution per friends che è una serie televisiva questi sono i colori non mi ricordo se l'ho swatchata se l'ho utilizzata però non l'ho utilizza spesso quindi oggi vorrei utilizzarla è vero ho preso i pennelli quindi il primer occhi e questo pigliatrice che ha deciso di accompagnarmi anche oggi non si sa ancora per quanto si senta subito anche mentre la mettete quindi soprattutto ora che alla fine preferisco fare un occhio per volta prima che si asciuga ok vado a stendere questo colore su tutta la palpebra magari con un altro pennello per esempio questo interessante provo ad utilizzare questo colore qui non so se la giornata è più scura invece resta chiaro quindi non so se la giornata è più scura invece resta chiaro quindi è molto più scura ok utilizzo adesso utilizzo questo colore qui questo qui Grazie a tutti Questo si vede di più Al volo, al volo ho preso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti